Vi ringrazio molto e sì, è un po' colpa sua, nel senso che alla fine i cosiddetti talent scout sono stati gli emiliani, perché per la prima volta in una manifestazione della Lega sono stato chiamato a rottofreno di Piacenza, per la precisione, a parlare. E quella volta lì, poi dopo a un certo punto è cominciata un amore reciproco che ancora mi accompagna, ma soprattutto io vorrei che tutti noi riflettessimo un attimo anche per capire cos'è il livello di bugie che ci stanno dicendo. E finché si parla dell'euro, delle bugie dell'euro, ok adesso sono qua a spiegarvelo. Ma guardate le bugie che si dicono sulla Lega. Ora, io da candidato, cosa assolutamente nuova per me, e posso farlo in un ambiente accademico proprio perché non ho nulla da perdere, non me ne frega niente, io la mia carriera lavorativa l'ho fatta, sono un uomo libero e quindi non perdo niente, ma tutti mi dicono sei matto. Con questa gentaglia, con questi incolti, ma avete visto la qualità delle persone che hanno parlato fino adesso? Abbiamo sentito psicologi, avvocati, abbiamo sentito ottimi amministratori, tutti a partire dal vostro candidato sindaco fino all'ultima persona che poi è intervenuta, io che pur qualcosa di altri partiti in giro ne ho vista o ne ho testimoniata, vedo della qualità incredibile. E poi noi dobbiamo essere candidati schifati perché dice ma no, ma come con la Lega e dall'altra parte c'è la gente fiera con delle liste con tutto il rispetto, la Zanicchi piuttosto che Mastella, piuttosto che... Cioè rendiamo conto del continuo travisamento della realtà, delle finzioni che vengono messe in atto, continuando a ripetere luoghi comuni fino a che queste cose poi dopo diventano vere. Ed è il sistema di propaganda la Goebbels, no? Tu continua, ripeti, continua a dirla la bugia, 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 poi dopo alla fine, bene o male, in una maniera o nell'altra tutti ci credono. E c'ero stato vittima anch'io. Perché non è che io sono nato con la conoscenza del problema dell'euro, ma proprio no. Lavorando in ambiente finanziario, alla fine uno è vittima di quella cosa che succede probabilmente a tutti noi nel nostro piccolo, vale a dire, se noi siamo dei meccanici per dire e passiamo tutto il giorno a cambiare candele piuttosto che a cambiare l'olio, non ci rendiamo conto se l'industria della macchina mondiale sta avendo un problema serio. Perché siamo preoccupati del nostro piccolo. Ora, è stato giusto ritirandomi dalla finanza, ritirandomi dalla borsa, che ho avuto tempo di pensare e guardare un pochettino con uno sguardo un po' più ampio. E dopodiché, quando ho visto cosa stava succedendo alla Grecia, e beh lì a quel punto non si poteva veramente non vedere. E ancora adesso mi do del deficiente per fatto di non essermi accorto molto prima invece di quello che stava succedendo. Quindi quello che uno dice, ah beh Borghi è bravo perché se ne ha accorto per primo. Sì, se ne ha accorto per primo, ma non sono bravo, sono scemo perché me ne sono accorto molto tardi invece di quello che stava succedendo. Ma una volta visto, a quel punto non c'è stato, vi giuro, e non c'è in questo momento nessun coraggio da parte mia. Sono come uno su una barca che ha visto un buco e dice c'è un buco. Non c'è coraggio nel dire c'è un buco. Il problema è rendersi conto e con orrore che tutti quelli intorno, i marinai della barca, mi guardavano e dicono non è un buco, è una fontana. Ma sei scemo? Ormai mi sono abituato ai toni di voce tipo razzi, no? Fatti le cazzi tua, sta buono, dica una fontana, vedrai. E purtroppo il fatto che tutte queste persone che dovrebbero essere le prime a denunciare il fatto del buco e che hanno il potere di turarlo, ah perché scusate, se il nostro governo oggi facesse un decreto legge, domani siamo fuori dall'euro, non è che stiamo parlando di processi che debbono necessariamente prendere anni, cose lontanissime, cose lontanissime se la governiamo noi dalla nostra posizione di buca in questo momento dove ci hanno messo quelli del pensiero unico, ma altrimenti il governo in carica fa un decreto, prende esattamente il testo della legge con cui si è passati dalla lira all'euro, cambia i nomi e noi siamo fuori. Con tutte le reazioni che possono esserci, di cui ne parleremo e che non ci saranno, ma noi siamo fuori. Però quindi c'è uno che ha in mano, volendo, la piastra da mettere sul buco della nave che affonda, Matt sta continuando a dirti che è una fontana. E allora a quel punto dobbiamo domandarci perché sono matti oppure ci sono delle motivazioni precise? Pensiamoci e guardiamo un po'. Adesso vi faccio fare un passo indietro. faccio fare un passo indietro perché l'economia per essere capita, infatti io non sono un economista di quelli che inventano le teorie o che, no, vengo dal mondo del lavoro e tutto il mio mestiere anche quando lavoravo poi dopo in Borsa in Finanza era spiegare ad altra gente le cose, quindi semmai sono bravino a spiegarle le cose, ecco, ma non sto inventando niente di nuovo, così come non è che ci vuole un ingegnere navale che ha preso dei Nobel, no, per vedere un buco in uno scafo. È quello lì e c'è. Allora, l'economia, intesa come poi dopo le grandi teorie, grandi Nobel che fanno poi dopo delle cose che rimangono nei giornali, come la grande teoria, la grande formula, è data da voi. Cioè, voi vi svegliate alla mattina e fate quello che è razionale fare. La somma dei vostri comportamenti, poi dopo, dà origine all'economia dello Stato. Quindi, se voi andate in un supermercato e vedete due confezioni di latte in apparenza uguali, uno costa di meno e l'altro costa di più, comprate quello che costa di meno, avete fatto una cosa normale. Se quel latte che costa di meno però è prodotto in Austria, voi state importando dei beni. Se quel latte è prodotto in Emilia, state consumando, facendo consumi interni. Se in Austria il signor Fritz, vostro parallelo, vede le due bottiglie di latte e compra il latte prodotto in Emilia, noi stiamo esportando dei beni. Se compra il latte prodotto in Austria, sta facendo consumi interni. La somma di tutti questi comportamenti dà la nostra bilancia commerciale, vuol dire quanto importiamo e quanto esportiamo. Il fatto che un imprenditore trovi conveniente lavorare in Italia o il fatto che un imprenditore decida di andare a delocalizzare, perché una di queste meravigliose idee del regime in cui siamo sono la fantasia nelle parole, le tasse non si alzano mai, si armonizzano. Io non chiudo la fabbrica, delocalizzo. Se uno ritiene che non sia più conveniente produrre in Italia e va a produrre in Romania, questa è disoccupazione che si crea in Italia. Non è che poi dopo succede qualcosa di diverso. E la disoccupazione che si crea in Italia, secondo voi, da dove viene fuori? Se non dalla scelta che abbiamo fatto noi andando al supermercato e comprando una bottiglia di latte prodotta all'estero invece che una bottiglia di latte prodotta in Italia, da quello deriva. Tutto, poi dopo il PIL, tutte queste cose, è data dalla somma di questi comportamenti, per cui ci sono delle logiche che alla fine sono semplicissime da capire. Basta ridurle a quello e capiamo la fregatura. E allora qui introduciamo l'euro. Perché uno dice, ma io l'euro, con l'euro ci pago normalmente le cose, per me non cambia niente, ho fatto fatica ad abituarmi all'inizio, quando c'era stato il cambio, che erano saliti i prezzi e così di questo tipo, ma poi per il resto va bene. E no, cari miei. La moneta di uno Stato segna il suo listino prezzi nei confronti di tutto il resto del mondo. Quando in Italia avevamo questa famigerata e brutta liretta, il nostro listino prezzi per il mondo era espresso in lire. Quindi significa che, se qualcuno si ricorda cos'era stata l'evoluzione del cambio fra la lira e il marco tedesco. C'era il marco tedesco, tanto tempo fa valeva 150 lire, poi dopo è andato a 900 lire. Quindi significa che per un tedesco il nostro prodotto, che prima costava 100, man mano scendeva di prezzo fino ad andare a costare 20. Il prodotto tedesco saliva proporzionalmente di prezzo rispetto al nostro. Voi immaginate due formaggi, un ottimo parmigiano reggiano, con tutta la tradizione, la fatica, millenni di storia per riuscire a produrlo qua, e il famoso parmesan cheese fatto da qualche parte in Olanda, con magari una bella etichetta bianca-rosso e verde, bandierine con mandolino in copertina sulla scatola per far capire. Ecco, quella schifezza là, che pur è più cattiva, però normalmente costava di più produrla anche. Perché immaginate con un costo di produzione che andava da 150 a 900, con la salita della moneta, quindi a un certo punto il problema non si poneva. Era un prodotto scadente, che costava tantissimo, e la gente non provavano neanche a produrlo. E quindi chi lo voleva comprava quello originale, che era buono e costava poco. E qui lavoravano tutti, qui o come qualsiasi altro tipo di produzione. Ora, voi immaginate un punto di partenza con due formaggi che costano uguale, costano tutte e due dieci. Uno prodotto qui e uno prodotto in un altro stato. Se ci danno una moneta forte, pensando di farci, dicendo, vi facciamo un regalo, vi diamo una monetona, perché l'Italia è sempre, sempre, sempre stata fatta fessa da queste cose. E purtroppo, sapete perché è stata fatta fessa? Perché c'è sempre stato uno scollamento fra chi produceva e il politico. Vado a dire, chi produceva in Italia ha sempre chiesto solo una cosa, essere lasciato in pace a lavorare. Quindi uno si sveglia alle quattro, arriva a casa con la schiena rotta alla sera e dell'Europa, dei meeting europei, non è mai interessato niente. È sempre voluto essere lasciato in pace a fare le sue cose. In Europa, invece, figurarsi, arrivavano tutti dei cialtroni, che non avevano nessun tipo di visione italiana e che venivano facilmente comprati. Allora a quel punto dice, guarda, tu racconta i tuoi che gli dai la monetona, vedrai che ti rieleggono. E c'era qualcuno, magari anche da queste parti, così, con gli occhialoni, no? Che dicevo, che bello! Divento importante. Mi fanno presidente, mi hanno detto che se faccio questa cosa, poi mi fanno presidente della Commissione europea, mantenuto. Lui, presidente della Commissione europea, noi, disoccupati. Vedete che bel affare che abbiamo fatto? Lui, dal suo punto di vista, ha fatto un affare perfetto. Allora cosa succede? Tutti dentro nell'euro, diamogli questa monetona. Allora, la monetona cosa comporta? Che partiamo dai due formaggi che costano tutte e due dieci. Se a un paese gli dai una moneta troppo pesante, tale per cui con una moneta di questo paese ne compri due di quell'altro, a quel punto per te il tuo formaggio costa sempre dieci, ma per gli altri costa venti. Perché una moneta tua vale due di quella dell'altro Stato. Per te il formaggio dell'altro, che a casa sua costa sempre dieci, per te costa cinque. Perché la tua moneta vale due di quell'altro. E allora cosa fai? Ti sveglia la mattina, vai al supermercato e compri quell'altro formaggio. Perché oltretutto hai anche pochi soldi in tasca, quindi non puoi permetterti di fare lo sciallo. E allora cosa fai? Vai al Billa, vai al Lidl, vai a tutte queste belle catene di discount, che guarda a caso sono tutte tedesche, e compri prodotti fatti non in Italia. Se tu compri un prodotto fatto non in Italia perché hai una moneta forte, inizialmente pensi di essere avvantaggiato, di avere un bel potere d'acquisto. Ma non ti stai rendendo conto che non appena tu hai comprato questo prodotto più conveniente, hai aggiunto una firma a una lettera di licenziamento. Perché un prodotto fatto all'estero è fatto all'estero. E non possiamo pensare che con una moneta troppo forte non ci sia disoccupazione. È matematico. Matematico. Quindi ci hanno disoccupato. E uno dice, ma perché ci hanno disoccupato? Perché fanno i loro interessi. La Germania questa cosa l'ha sempre saputa. L'ha sempre saputa che se noi, se si dà un cambio fisso a uno Stato che è più debole rispetto a loro, questo va in difficoltà. Sempre saputa. Non sono scemi gli industriali tedeschi come potete immaginare. Al contrario degli italiani sono strettamente collegati con la loro politica. Vale a dire, il primo ministro tedesco è primo tutelatore degli interessi dell'industria tedesca. Non vai su se non sei d'accordo con la Volkswagen, se non sei d'accordo con la BMW, se non sei d'accordo con l'Audi e così via. Non ci vai con la Bayer, non vai a fare cancelliere. Sei loro rappresentante. E loro, e ho parlato direttamente, ma l'ha confermato in un incontro pubblico che c'è stato a Roma con tanti economisti che sono venuti a dire da tutti i paesi, a dire che bisogna smetterla con l'euro. Gente di Oxford, quindi non gente così delirante o economisti strani. No, no. Tutti a voler dire convegno. Era organizzato da Simmetrie, dell'associazione del professor Bagnai che ha scritto quel libro che sicuramente tanti di voi hanno letto, che è il tramonto dell'euro e che Matteo ogni tanto regala così a Renzi senza particolari speranze che lo legga. No? Ma così, insomma. E tutti, e c'era fra queste persone un po' di pentiti c'erano. C'era un ex commissario europeo, Fritz Volkenstein, che qui si ricordano anche per malefiche iniziative delle sue legislative. Poi c'era Anzola Fenkel, che è candidato anche lui all'Europeo per Alternative for Deutschland, che è un partito che vuole far uscire la Germania dall'euro, perché si sono virgolette pentiti, hanno capito che la cosa non può più stare in piedi e allora loro sarebbero, pur stando in Germania, per uscire prima che il disastro poi dopo diventi totale. E Anzola Fenkel, che era l'ex presidente della Confindustria tedesca, ha detto una cosa molto banale. Claudio, guarda, venivano lì ogni giorno a tirarmi per il bavero della giacca dicendo che non vi salti per la testa di lasciare l'Italia fuori dall'euro perché l'industria del nord Italia ci fa una concorrenza nera e noi dobbiamo disattivarla. Quindi hanno agito, hanno preso uno sufficientemente pirla e l'hanno trovato nel nostro simpatico prodi romano e poi dopo unendolo assieme con... Eh, è così. Ne hanno comprati un po' di altri, no? Perché poi alla fine... E allora a quel punto cosa succede? Ci hanno disattivato. Nel momento stesso in cui la Germania non poteva più rivalutare, il suo vantaggio, che è sempre stato nei confronti degli altri paesi, è andato senza più limiti. Se noi guardiamo cos'è il bilancio quindi fra importazioni ed esportazioni dei paesi dell'eurozona, perché questa è un'altra cosa dove bisogna riflettere, dicono a noi siamo brutti, sporchi, corrotti e così questo tipo, ma è tutta l'Europa che è saltata per l'Italia. Anche dove c'erano quelli bravissimi, Zapatero, che i fondi europei, lui sì che li faceva. In Irlanda tasse bassissime, spesa pubblica zero, debito pubblico non c'era. Eppure sono saltati tutti. Era un motivo. Perché? Perché funziona con tutti questa trappola. È la stessa roba dei pesci di profondità. Gli fanno vedere una luce e questi vanno. Allora prendi un paese debole, gli dici entra nel club dei ricchi, vedrai, vedrai e allora a quel punto entrano tutti e poi dopo succede matematicamente il disastro. Perché la Germania che era in pareggio fra importazioni e esportazioni, se noi guardiamo i freddi numeri nel momento stesso in cui entra nell'euro, comincia a esportare di più di quello che importa. Comincia con 10 miliardi, poi dopo i miliardi diventano 25, 50, 150, 200 miliardi all'anno di differenza tra esportazioni e importazioni. E tutto il resto dell'Europa va in deficit. Quindi significa che comincia a importare più di quello che esporta. Perché? Perché l'imprenditore, e ieri ero a Treviso, gli ho raccontato la storia dei Benetton, l'imprenditore non è pirla. E l'imprenditore italiano che aveva già vissuto sulla sua pelle questa cosa alla fine degli anni Ottanta, quando avevano fissato per la prima volta il cambio con lo SME, ha visto che si rietrava esattamente nello stesso giro. Ha avuto un momento di gloria nel 92, quando per l'ultima volta la nostra moneta è stata libera di valere sui mercati quello che è il valore corretto di mercato. Ebbè, qui noi ho tutta una bella raccolta di giornali del 92-93 con la Liretta. L'industria che naviga in mezzo al diluvio, il gruppo Yama di Reggio Emilia in crescita, 8% in più e così via. Mentre ci dicevano ovviamente prima che se noi fossimo usciti dai cambi fissi sarebbe successo quello che vi dicono che succede ora, le cavallette, la pensione, il buco nel terreno e così via. Le città della bella Italia, Reggio Emilia, Parma, Treviso, Padova, Pordenone, Udine, Siena, Ancona e così via che crescono, questo nel 94. Subito dopo, tappe forzate ce la faremo, brezza di ottimismo, squarcio di sole, ci sono regioni come il Veneto e l'Emilia Romagna che hanno un tessuto di piccole e medie industrie che stanno sfruttando meglio questa nuova condizione della nostra economia 94. Che cos'era? eravate diventati intelligenti di colpo? Eravate diventati dei migliori imprenditori? No, vi hanno messo le ruote invece che una roba quadrata. Cioè sulla vostra macchina a un certo punto per un breve periodo vanno consentito di avere le gomme invece di un blocco di cemento. La piccola e media impresa italiana, nel momento stesso, del nord soprattutto, nel momento stesso, in cui viene messa in condizione di competere, distrugge tutti gli altri, perché siamo più bravi, perché voi lavorate, perché vi svegliate la mattina presto e perché avete la flessibilità che gli altri non hanno. Perché per cambiare una vite alla Siemens hanno bisogno di passare per una procedura stragrande o qualche magari corruzioncina internazionale che non guasta mai, perché alla fine i corrotti chissà come mai dicono sempre che siamo noi e poi dopo quando si va a guardare chi corrompe internazionalmente per vendere i sottomarini alla Grecia e così questo tipo sono sempre tedeschi. Strano. Comunque loro per cambiare qualcosa hanno bisogno di un sacco di tempo. Noi siamo perfetti per l'economia che cambia velocemente, perché ci adattiamo, perché abbiamo dei sapori che nessuno ha, perché abbiamo delle culture, perché abbiamo delle tradizioni che non sono copiabili. Se ci fosse il prezzo giusto, col prezzo sbagliato, qualsiasi cosa, anche la più meravigliosa, non si vende. Non si vende. Eppure fanno apposta a far così. Perché la Germania, se avesse avuto ancora il suo marco, a furia di esportazioni, il suo marco sarebbe salito di valore. Non può non succedere. Se io ogni anno esporto per 200 miliardi in più di quello che importo, significa che per poter comprare tutta questa marea di beni bisognava comprare dei marchi tedeschi e quindi il valore del marco tedesco saliva e quindi il prezzo delle merci tedesche saliva e le nostre diventavano più convenienti. E guarda caso, con la liretta, con i tassi di interesse alti, con l'inflazione alta e così questo tipo, si sono costruite alcune fortune che durano ancora adesso. Perché negli anni 80 ci saranno state l'inflazione a due cifre, ci saranno stati tassi di interesse altissimi, ma secondo me qua fra di noi abbiamo o noi personalmente o qualcuno che conosciamo messo le radici di quel benessere che adesso stiamo distruggendo. Quindi non poteva succedere diversamente. Vista la sequenza in cui noi eravamo messi, non potevamo vincere. Ma non potevamo vincere perché siamo come un peso leggero che va sul ring contro il peso massimo. Tu puoi anche essere allenato, quello ti fa secco. La scusa di dire è uguale per tutti, è una balla. Se ci sono dieci corridori e ce n'è uno che pesa 100 kg e l'altro che pesa 50, magari arrivano esattamente con lo stesso tempo al traguardo, no? Perché uno magari è più agile e l'altro è più lento. Ma se tu metti a tutti uno zaino di 50 kg uguale, non stai facendo una gara leale. Se tu metti a tutti i corridori uno zaino dello stesso peso di 50 kg, quello che pesa 100 ce la fa arrivare al traguardo. Quello che pesa 50 non corre più. È quello che hanno fatto. Infatti, guarda caso, non sono saltate prima le economie che avevano il debito pubblico, tutte queste balle che ci tirano fuori come cause finte del nostro problema. Sono saltate quelle che avevano l'economia più debole. Saltata prima la Grecia, poi dopo saltata l'Irlanda, la Spagna, al Portogallo e così via. Certo, gli avevano messo sullo zaino da 50 kg. E a questo punto io veramente vorrei che capiste una cosa. Ho fatto questo libretto, no? Bastaeuro.org su richiesta di Matteo Salvini che ha un merito secondo me incredibile, vale a dire il primo politico che ho incontrato che ha voluto preoccuparsi dei problemi. Cioè vale a dire ma c'è davvero un problema, me lo spieghi, mi spieghi bene che cos'è, no? Altrimenti tutti i politici sono convinti di avere già loro normalmente la soluzione, no? E te la spiegano loro. Cioè tu vai lì a parlare e dici scusi io vorrei... No ma adesso ti dico io come gira il mondo, no? Lui ha voluto informarsi e una volta informato credo che si è reso conto anche lui che c'era un simpatico buco nello scafo, no? E quindi tutta questa fretta che lui ha messo nello schierare il partito contro una battaglia è perché si è reso conto della priorità. Dopo poi dopo abbiamo tempo per fare tutto il resto, ma prima dobbiamo vivere. In questo momento con una moneta sbagliata così come è l'attuale i nostri prodotti non possono competere e quelli che in ogni caso sopravvivono sono degli illusi. Perché dicono ah guardate noi con l'export ci teniamo a galla. Siete dei gonzi purtroppo e ne ho incontrati altri che fanno questo ragionamento. Ti tieni a galla perché sei molto più bravo di altri e quindi complimenti, ma stai buttando via un'occasione della vita. Perché tu che adesso ti tieni a galla, se avessi avuto la possibilità di competere a darmi pari con gli altri con la moneta mirata alla tua di economia, non a quella della Germania, a questo punto staresti accumulando ricchezze, staresti triplicando i capannoni, staresti dando lavoro a migliaia di persone, staresti creando un impero. Invece t'hanno talmente rimbecillito anche te, pur eccellente, che sei convinto di essere un figo perché stai a galla e stai buttando via un'occasione d'oro. Perché tutto il mondo cresce in questo momento, tutto il mondo sta crescendo, non c'è la crisi mondiale, un'altra cosa che ci fanno credere. Basta andare a Londra, andate a Londra a vedere un po' che crisi sono, qualche volta. Una fila di macchine, di limusine, ho visto persino una Ferrari col pelo fuori. Gli hanno fatto l'alcantara, cioè aveva l'alcantara sulla carrozzeria. E beh, a parte il buon gusto, ma giusto per rendervi conto di come sono messi dal punto di vista di ricchezza, e sono in Europa. Però gli inglesi mica sono cretini, hanno la sterlina. Perché? L'Inghilterra è una guerra e non l'ha mai persa. E infatti quando gli hanno detto, e c'era una grande rinforzamento, oh dobbiamo tutti, tutti assieme, tutti di corsa, no? Queste cose hanno detto che hanno detto, aspetta! No! Io la mia sterlina me la tengo, perché è la mia assicurazione sulla vita. E quanto lungimiranti furono! Perché? Perché poi quando nel 2008 arrivò il treno espresso che arrivava dall'America, loro cosa hanno fatto? Hanno potuto stampare soldi! Il colpo della crisi, che pure era mirata loro, perché hanno un'economia sulla finanza, quindi figurarsi, va in crisi la finanza, tu sei come economia mirata sulla finanza, saresti quello che doveva saltare per prima. Ecco, invece di... non hanno battuto ciglio a un certo punto, hanno cominciato a ricomprarsi tutti i loro titoli, la sterlina è svalutata di quasi il 50% in certo per certo, perché è andata da 0,6 a 0,9, quindi immaginate che enorme aggiustamento hanno potuto dare. Loro sono in piedi in questo momento, crescono, crescono e tanto, 2 passa per cento. Noi siamo sotto... e questo è il debito pubblico che hanno fatto? Possono in teoria annullarlo con un tratto di penna, perché se il debito pubblico pubblico è stato venduto, è stato comprato, questo debito pubblico venduto è stato comprato dalla Banca Centrale, voi capite che lo Stato è indebitato, ma è indebitato con chi? Con la Banca Centrale. Chiunque sa fare un bilancio consolidato capisce che in realtà gli attivi e passivi sono dalla stessa parte. In teoria il debito pubblico lo può cancellare? Cioè il debito pubblico acquisito dalla Banca Centrale può andare a pareggio? Possono così, retoffarlo perché a un certo punto io sono debitore e creditore verso me stesso. immaginate un po'. Quindi, in una maniera o nell'altra loro sono in piedi. Hanno anche altri problemi, è similare per carità, però intanto sono in piedi. Noi invece cosa è successo? Quando è successa questa cosa? È stata l'occasione per chiamare l'esecutore, il Monti. quando noi siamo andati in crisi è arrivata la Troica. Non ufficialmente, ma in pratica sì. Adesso abbiamo un ministro che vengono dall'Ocse, vengono dal Fondo Monetario Internazionale, Cottarelli, Padoan. Tutti i membri di questi organismi finanziari mondiali, non eletti da nessuno, arriva la lettera della BCE. Qualcuno ha mai eletto il rappresentante della BCE? Lasciamo perdere che è italiano, ma non mi risulta che qualcuno mi abbia mai messo davanti una scheda per dire se preferivo Draghi o se preferivo un altro. La Commissione Europea che mette tutti questi servizi di austerità, è mai stata votata da nessuno? Proprio no. Il capo è uno si chiama Varron Pui, che quello che dico io, se anche avesse fatto le lezioni nella sua classe al liceo non sarebbe stato eletto rappresentante. Per cui tutto fuorché democrazia, perché la democrazia a questi signori dell'eurocrazia designata e dipinta sullo stile della sinistra fa orrore, tutto deve essere nominato, come diceva giustamente Salvini, tutto deve essere calato dall'alto e certo fra di loro, e beh attenzione, anche qui notate la parola, tutti questi organismi sono belli perché secondo loro sono indipendenti. L'autoreferenziale per loro, il faccio i cacchi miei, senza bisogno di dover rendere conto a nessuno, è l'indipendenza. Però se la chiedete voi, l'indipendenza, finite in galera. Allora per voi l'indipendenza è un reato, per loro è una qualità. E quindi l'unica cosa che un po' capisco forse per i centri sociali è quando un economista francese che collabora anche con noi per la stesura di soluzioni e così via, che è molto ascoltato da Marine Le Pen, che lui è un economista marxista, si chiama Sapir, ma nonostante tutto lui chiama quest'Europa EURS, perché la cosa più simile all'Unione Sovietica è come stanno costruendo quest'Europa. C'è un'elite di gente che è più uguale degli altri, questa specie di politburo europeo, e gli altri che sono oggetti, numeri, e devono subire. E scusate, qui arrivo alla fine, cos'è il nostro punto d'arrivo? Il nostro punto d'arrivo è la spogliazione di tutti i nostri beni. Immaginate questo concetto falso della solidarietà europea, che vi dicono, bisognava entrare in Europa perché tutti assieme, così possiamo combattere contro la Cina, possiamo combattere contro l'India, e così questo tipo. Cosa assurda, perché uno dice, voglio la pace, faccio una roba per combattere, va bene. Però combattere contro la Cina, combattere contro la Cina significa che si fa squadra in Europa per fare un prodotto che possa essere più conveniente rispetto ai prodotti cinesi. Invece, guarda caso, abbiamo visto una Germania che invece fa dei prodotti che possono essere più convenienti rispetto agli italiani. Quindi ci hanno fatto credere che si giocava a calcio contro 11, contro 11 dall'altra parte, e invece era pugilato, tutti contro tutti, all'interno della stessa ringa e della stessa gabbia. Solidarietà non c'è, e voi immaginate nella vostra vita, perché qui vi riporto per un'ultima volta la nostra vita comune che riporta, poi dopo a quello che viene fatto in grande stile, quante volte vi è capitato di desiderare qualcosa di un vostro vicino? Magari un pezzo di giardino, un locale della casa di fianco, l'appartamento, se c'è il pezzo di terrazzo, se ce l'avessi io come mi piacerebbe. Ecco, quando voi desiderate fortemente qualcosa di un vostro vicino, di uno che sta vicino a voi, a questa persona augurate successo o sperate nella sua rovina? Mi pare evidente che si speri nella sua rovina, ma gli andrà male quell'autonoleggio a quella lì, così poi dopo magari viene a più miti consigli e mi vende il locale. A quel punto cosa succede? Il vostro sogno è sperare che questo sia strozzato dai debiti, dove voi andate lì con un piatto di lenticchie e vi comprate poi dopo quella cosa che lui ha, che a voi piace tanto. Ecco, l'Europa con l'Italia sta facendo esattamente questo ragionamento. Noi abbiamo tantissime cose che piacciono tantissimo a tutti, aziende, cioè la Germania per dire un'impresa petrolifera non ce l'ha, noi abbiamo una fra le imprese petrolifere più grandi del mondo, però dico bisogna privatizzare. Lasciala un po' qua Leniva che vediamo un po' che magari ci serve. I beni dei comuni fanno gola a tutti, vendere e se non vendi volontariamente facciamo la bella riforma del titolo quinto, che è quello che stanno facendo adesso, in modo tale che lo Stato possa mettere direttamente le mani sui propri beni, ma cominciavano già da allora, quando eravamo bloccati con il cambio prima del 92 e quindi siamo andati in difficoltà esattamente come adesso, il cameriere pagato ancora già pensava di fare lo stesso lavoro che ha cercato di fare questa volta, vale a dire c'era uno, qui ci sono le dichiarazioni, sempre tratte dai giornali dell'epoca di Mario Monti, che nel 92 per risolvere il problema del cambio fisso e quindi della difficoltà economica, diceva diamo impegno loro, capite? Io ho un problema di prezzo perché il formaggio che io vendo per gli altri costa 20, mentre invece quello degli altri per me costa 5 e sto diventando matto per cercare di economizzare, questo mi vuol far dar via l'oro, è esattamente il comportamento del mediatore che cerca di far concludere l'affare al suo dante causa, riesci a farmi portare via i beni dell'Italia, riesci a farmi mettere in mano, stai tranquillo che per te poi dopo c'è la percentuale. Quindi il comportamento dei vari mediatori che in questo momento stanno remando contro l'Italia per affamarci, per farci svendere tutto quando saremo totalmente alla canna del gas, è quello che noi dobbiamo combattere in questo momento e lo strumento, ve lo dico subito così sapete già contro cosa dovete scagliarvi, si chiama ERF, European Redemption Fund. Cominciate a familiarizzare con questa sigla perché gira da un anno, è un anno che io dico queste cose, è un anno che tutti tranne la Lega se ne fregano e vi sta dicendo che con la scusa di mettiamo in comune il debito, facciamo gli Eurobond, quelle cose che piacciono tanto a Grillo, che non ho ancora capito veramente da che parte sta della commedia, ma un po' lo sospetto, comunque se tu fai gli Eurobond devi mettere a garanzia dei beni reali, beni reali cosa significa? Che per mettere in comune un po' di debito, che abbiamo visto non essere il problema, noi dobbiamo metterci a garanzia tutte le nostre ricchezze, quelle nazionali, vale a dire oro, vale a dire aziende statali, vale a dire tasse, perché è previsto che si debba obbligatoriamente versare una quota delle vostre tasse all'Europa, a garanzia di quel debito e quello che non basta per completare la lista deve essere preso dai comuni, quindi quello che è vostro bene, il palazzo che appartiene al comune, carico di storia, carico di bellezza, deve essere preso e messo a garanzia di questo European Redemption, la categoria morale, brutti, cattivi, peccatori. Questo è quello che stanno cercando di fare. I fondi salvastati vi hanno già portato via 50 miliardi, sono uscito fuori ieri il conto dell'Istat e dice, oh ma se non avessimo dato 40 miliardi per i fondi salvastati saremmo stati già col pareggio di bilancio. Oh ma bravo, ma ce ne siamo accorti, ma chi era l'unico cretino che andava lì a dirti che stavamo dando dei soldi a fondo perduto a non si sa chi? Ma scusate, ma invece di trovare 100 milioni per la minimo o cose di questo tipo, ma avete idea di cosa non si potevano fare con 40 miliardi l'anno scorso? Qualcuno vi ha mai detto che stavamo dando via 40 miliardi? Avete mai votato? C'è stato mai dibattito sui giornali per dire, ma forse questa qui è una fregatura? In tutto il Parlamento, sul MES, quindi su questo meccanismo europeo di stabilità, perché quando non vogliono farvi capire una cosa ci metto una bella sigla, così voi andate avanti belli sereni e dite chissà che, votato a luglio, quando ovviamente tutti distratti, su tutto il Parlamento, tutti a favore, un unico partito contro Lega Nord. Andate a vedervi la votazione, fortunatamente adesso c'è internet, uno si può documentare, vedete un po' cosa sono le votazioni sul Fiscal Compact, vedete un po' cosa sono le votazioni sul MES e tutti a favore, un unico partito di pazzi che dice no, forse, forse magari c'è qualcosa che non quadra. Signori, purtroppo è così, noi in questo momento siamo da soli contro tutti, perché si è rivelato quello che era, il partito unico dell'Euro aveva due facce con cui ci ingannava pensando che si poteva cambiare, destra, sinistra, che sarebbero state differenti le cose da una parte all'altra, ma in realtà nessun governo nel momento stesso in cui si è entrato nell'Euro aveva più alcun potere, nessuno. Perché tanto c'era quello che ogni tanto fanno anche loro delle gaffe, si tradiscono, c'era il pilota automatico, l'ha detto Draghi. Se tu non puoi far niente perché vai al governo e le tasse non le puoi alzare, non le puoi abbassare, o meglio si ci prove ad alzarle, ma tanto non cambia niente perché il gettito poi dopo diminuisce, sono così alte già in questo momento che qualsiasi, possono anche chiederne il doppio, la gente ha i soldi da darne, non ne ha più, quindi c'è poco da divertirsi, non puoi abbassarle perché ci sono i vincoli europei, non puoi stampare denaro, non puoi svalutare, non puoi fare un cacchio, quindi non serve a più nulla il governo a Roma, finché tu non sei padrone di casa tua, del tuo destino, il governo a Roma è inutile, che ci sia la destra, che ci sia la sinistra, può solo eseguire gli ordini e la stessa roba purtroppo capita ai sindaci, caro mio, cioè noi saremo liberi, il sindaco sarà libero di cercare di fare il bene dei suoi concittadini, solo se noi saremo nuovamente pienamente sovrani e padroni a casa nostra, perché altrimenti lui, poverello, dovrà fare l'esattore, pur con tutta la buona volontà che avrà, magari lo farà meglio di un altro, sicuramente lo farà meglio di un altro, perché sappiamo che gli altri hanno un certo piacere quasi sadico nell'andare a tirarvi via quello che avete accumulato con pazienza e passione, ma purtroppo di soldi per cercare di migliorare la città o così questo tipo non ne avrà, perché noi in questo momento non siamo padroni a casa nostra e chi pensava di ottenere l'indipendenza e così via soltanto amministrativamente, purtroppo anche bisogna rendersi conto che si è sbagliato anche quello, tu sei indipendente e libero quando cominci ad avere il controllo sulla tua moneta, a quel punto puoi veramente dire che sei libero. E guardate due esempi, e poi vi lascio, di due stati che hanno cercato due strade differenti, uno era la Grecia e l'altro è l'Ungheria, quindi non sto dicendo il Giappone, l'America, è stato molto... ecco, no no guarda c'è questo, figurati, mica mi fregano. Allora, questo era uno del centro sociale che ha staccato la... Allora, immaginate quindi due paesi in parallelo con la Grecia che parte in vantaggio, perché qualche qualità la Grecia ce l'ha, l'Ungheria, Porelli sono là un pochettino più dispersi nel nulla, uno ha cominciato a seguire in maniera rigida quello che gli dicevano di fare all'Europa, seguo le tue ricette, preciso, mi comporto bene, faccio, dimmi tu Troika cosa devo fare nel 2008, e quello che è successo in Grecia, quando voi vedrete le immagini, adesso cominciano a venire fuori qualcosa, perché tengono tutto secretato, ma è stata una cosa molto simile a un genocidio, è stata una cosa molto simile a un genocidio, quello che è successo in Grecia veramente è una vergogna per l'umanità, una vergogna per l'umanità, è quello che sta succedendo, e verrà ricordato nella storia così come vengono ricordate le stragi, gli orrori della guerra e cose di questo tipo, perché quello che è successo in Grecia è stata una vergogna. Dall'altra parte in Ungheria invece ne hanno eletto uno che era brutto, cattivo, nazionalista, probabilmente inteso come fascista, perché qua uno dice come se esistesse ancora il fascismo e cose di questo tipo, cioè il proprio, in questo momento paradossalmente chi difende la propria patria diventa fascista, là c'è stato uno che quindi era fascista, orribile, cattivo, questo Orban che ha cominciato a fare cose differenti, gli hanno detto tu devi fare così 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 e lui ha detto no, ah ma la banca centrale non la puoi toccare, no la banca centrale la nazionalizzo e vediamo un po' cosa succede, ma pazzo farai, stamperai i soldi, farai la spesa con le carriole, inflazione a zero, ma perché devi fare i prestiti col fondo monetario internazionale che il governo di sinistra precedente aveva fatto, te ne restituisco subito, basta che te ne vai fuori dalle coglioni, fuori dalle balle il fondo monetario internazionale, banca centrale nazionalizzata e si è cominciato a dire io faccio tutto il contrario di quello che mi dite di fare, abbasso le tasse, abbasso le tariffe, metto le tasse su industrie straniere che erano venute poi dopo ad aprire nel mio territorio e guarda caso erano soprattutto banche, do incentivi a chi produce, hanno provato a fare queste cose stranissime, adesso l'Ungheria non sarà il Bengodi ma sono in piedi, la Grecia avete visto cosa è successo, uno ha seguito le ricette di un medico, che era un killer camuffato da medico e l'altro invece ha provato a fare gli interessi di casa propria, quindi signori l'ultimo e l'unico messaggio importante che vi do è si può scegliere, si può scegliere, vi dicono che non si può scegliere, si può scegliere, abbiamo il coraggio di sognare, abbiamo il coraggio di pensare che possiamo ritornare padroni di casa nostra e che possiamo ricordare dentro il più breve tempo possibile questo periodo, questo decennio che abbiamo avuto come un incubo, la storia quando si parlerà di questo periodo non sarà tenera, noi ci riguarderemo le immagini e diremo ma come abbiamo fatto, come abbiamo fatto a essere così cretini, ci sentiremo probabilmente come certi tedeschi brave persone che riguardando poi dopo i filmati della guerra, i filmati del periodo del ventennio dicevano ma che cosa ci era preso, quindi possiamo scegliere, possiamo scegliere, mettiamocelo in testa e dovete andare da tutti a ricordare che possiamo scegliere, non siamo inevitabilmente in crisi, non siamo inevitabilmente disoccupati, siamo disoccupati, siamo in crisi perché ci stiamo andando a cacciare da soli, ci hanno portato dentro in una tonnara e nessuno creda di essere al sicuro, chi è pensionato non è al sicuro, le pensioni sono pagate da chi lavora, chi ha dei risparmi non è al sicuro perché in questo momento se vengono a mancare il gettito delle tasse o dei redditi di chi lavora e chi produce, vengono a prendervelo, chi pensa di avere la casa, di essere tutelato se è già reso conto che non è al sicuro, il diritto di casa propria è sempre stato fondante qua in Italia, di essere lasciato in pace a casa propria, no stanno venendo a prendervelo e troveranno ogni categoria morale per dirlo, siete ricchi, egoisti, avete una casa, l'inizio dell'Unione Sovietica cari miei, io mi spiace ma non ci sto e spero che non ci stiate neanche voi. Grazie. Grazie. Grazie.